Le case neogotiche di Bologna. Negli anni XX del XX secolo in Piazza Carducci e in Via dei Toschi furono realizzati edifici in stile goticheggianti con conseguente aspetto neomedioevale. Nel caso di Piazza Carducci, Civico IV, fu seguito il progetto di Giulio Ulisse Arata, nel caso di Via dei Toschi si trovò ispirazione nei criteri interpretativi di Alfonso Rubiani.